come vi dicevo la partita è andata male la Juve perde 2 a 1 con la spalla anzi devo dire la verità nel momento che staccavo l'altro video e mettevo questo il nervosismo mi aumenta perché sul 2 a 0 per la spalla al 91esimo la Juve trova il gol del 2 a 1 con Cotter in mischia e al 94esimo Cotter si divora il gol del 2 a 2 clamoroso veramente una Juve che ha una capacità incredibile veramente di trovare la porta ma anche oggi ho sprecato tutto anche se devo dire che la spalla è molto ordinata fa pesare la maggior qualità nell'esperienza e sinceramente credo che il risultato sia un po' bugiardo però la spalla abbia avuto diverse occasioni anche per chiuderla prima la partita quindi risultato più che giusto ho visto una Juve che ha fatto molta fatica e questa partita purtroppo cambia tutto perché ci fa perdere di nuovo le prime posizioni ci fa tornare indietro di due e può capitare ne vincevamo da veramente tanto ormai e purtroppo questa l'abbiamo persa questa l'abbiamo persa non è nulla è perduto sabato c'è subito il toro settimana prossima possiamo giocarci giocarci comunque una partita importante perché comunque se vincendo le ultime due derby e la pro è l'ultima possiamo puntare a ancora entrare dalle prime due secondo me peccato però perché eravamo scarichi e si vedeva la spalla messa meglio in campo e alla fine abbiamo buttato via quanto di buono fatto nella scorsa partita nelle scorsa partite il guadagno che avevamo guadagnato appunto le due posizioni che ci servivano niente ragazzi la spalla batte la Juve 2 a 1 non è che ho molto da dire anche perché ho avuto un po da fare tra corsi cose di quell'altra quindi ho visto la partita e non è che ci sia molto da aggiungere la spalla è stata molto ordinata ha giocato molto bene infatti credo che garofani abbia fatto un paio di parate davvero sensazionali anche oggi e sulle bravissimo però in poi concludente oggi rispetto ad altre partite e per cui niente complimenti alla spalla che ci porta via 6 punti quella dell'andata secondo me è stra immeritata al ritorno ci stava il pareggio ma tutto sommato poteva anche stava anche la sconfitta e alla fine penso che alla fine il risultato possa anche starci ecco Juve in questo momento terza ma se dobbiamo aspettare la Roma molto probabilmente ci troveremo quarti terzo quarto non cambia niente ma dobbiamo assolutamente tentare di recuperare una posizione e arrivare almeno secondi che deve essere il nostro obiettivo per andare direttamente in semifinale evitare le due partite dei quarti di finale quelli dobbiamo evitarli oggi nella Juve direi migliore cotter è entrato gol gol sbagliato all'ultimo secondo e alla fine in una partita non proprio entusiasmante credo che sia stato il meno peggio anzi il migliore secondo me della Juve io vi saluto ragazzi vi do appuntamento al prossimo video fino alla fine forza Juventus primavera